A costruire questo festival è venuto abbastanza fagioli di fronte a quello che è successo negli ultimi mesi, cioè una forte azione da parte della festura e della propria tolinese. Nel nostro di confronto di linea di punta, come sapete, è l'ultimo evento, è stato il suo resto del piatto, del gruppo di lineare, ma già a un anno, siamo sottotituzati con l'assurda, a come saputo, di associazione del gruppo e del gruppo. Quindi questo festival da un lato abbiamo pensato come un momento di rinancio, di riflessione per il futuro, tra l'altro è anche un momento per connetter i figli con la nostra comunità di fronte a test e attacchi e pensare insieme e progettare insieme i orizzonti di una trasformazione possibile. insomma, tutto qua, tutto qua, tutto qua del festival, adesso brevemente vado a introdurre un dibattito per i nostri ospiti. Abbiamo deciso di fare questo dibattito perché, come dire, negli ultimi anni abbiamo notato che da un lato due fenomeni contrastanti, cioè da un lato come dire, abbiamo la sensazione che il fatto, la frattura geografica che esisterà, il nord e il sud, il nostro paese, sempre da proprio dire dal punto di vista politico-economico, dall'altro lato questa narrazione, questo discorso della questione milionare, comunque quello che vogliamo intendere, è un po' sparito dalla risoluzione sociale. Questo ci sembra un lato particolarmente importante, vedere, sia sul piano, diciamo, della politica istituzionale, sia sul piano dei movimenti, dei conflitti sociali, come di fatto ci siano delle dinamiche che, in qualche modo, sono differenti tra quello che succede sotto Roma, nel medico risolvere quello che succede sopra, che comunque contengono tutti i tanti comuni, ma anche in qualche modo ci sembra esserci avanti. Vorrei introdurre i nostri ospiti, abbiamo Carmine Rotendi, che ha scritto un libro... ... 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 è parso, è particolarmente interessante l'approccio che hai mai utilizzato, scoperto completamente nel campo da alcuni approcci, ben o male, sia storici, sia più attuali, diciamo, alla questione meridionale. Quello è l'approccio neoporbonico, possiamo dire, cioè quello del sud potenzialmente capace di un sviluppo incredibile, se fosse rimasto un intervento su tutto il volo, diciamo. L'approccio, mi viene avrebbe in vista ufficiale, cioè quello di una ricorda in cui la questione meridionale che è vista spiegata dalle dinamiche generali del capitale e vari rapporti di stabilità che si vanno a formare da territori nel capitalismo è l'altro approccio, quello che esiste su una questione meridionale. Quindi, quello che vuol dire, tu vai anche in qualche modo a mettere, a credita, la categoria pesa così per come il colonismo, no? Quindi vorrei partire un po' da questo, se voglia, sia per credita questa categoria, sia per una, diciamo, ricostruzione, anche storica, perché, per le valida, però, in un certo punto. Grazie Vincenzo, perdonami davvero se mi fai aiutato a ricordare il sito, ma non mi interrompo da ridere perché questo libro, a quanto pare, o no, che non c'è un libro che non finisce da ricordare, ma praticamente già stanno denominati in vari modi, anche qui sono molto divertenti. In primo letto ho un po' di aiuto, ho detto, io ho visto una pinzata che non mi ero, l'ha chiamata il professional per il giorno, e quando la persona me l'ha chiamata il professional delle nazioni, quindi dopo questi, diciamo, del solito, nel 1970, e invece mi sono accetto davvero un altro moments stesso che ero occupato con la mia antropologia di sveglia della nazione. Quindi, qualcosa dico, proprio un nono più topeddousità in quantità. Non sono così da la lista, ma non lo è rilevate, ma è un nuovo lenzziarre, scuo, però non ho fatto rimane これ, poi non invece di nuove dire Grazie a tutti, grazie a tutti i compagni del Montaglio Medellino per questa festa e una solidarietà non solo a parole per tutti questi certi avvenimenti. E appunto speriamo che qualcuno che si diparte che serva anche l'evidenza del ruolo che questo Oscar ha nella città. E tornando a noi, è stato iniziato una serie di riflessioni, quindi forse vale un po' la pena capire che cos'è questa questione mediterranea che è un po' un feticcio che l'Italia come stata nazionale e gli italiani nel processo di costruzione della loro identità si portano così da poco di tempo. E diciamo che non c'è neanche poco che ha studiato queste cose su quando comincerebbe questa questione. Secondo una storica natura del servizio, infatti, che ha fatto uno scritto molto inversato per anni 90, c'è una... la questione mediterranea nasce con l'unità, ma pure nasce dopo con l'unità. Lei dice no, la questione mediterranea nasce nel 1898 e guardate il fondo Uber a Torino. A Torino perché? Perché una serie di esuti, di patrioti, soprattutto moderati, che praticamente nel gioco del risorgimento sono quelli che dicevano ok, potremmo lanciare il corpone, ma va bene anche per me c'è la malattia. Quando, appunto, dopo l'unità del 1898, i corponi riuscirono con tesili, con carcerazioni e così via, questi trovarono a Torino, a Torino, a Torino, a Torino, a Torino, a Torino per poter costruire quella che si è pensato dalla pura nazione. E nell'immaginare questa pura nazione c'era un sentimento di rivalza e, se non qualche tesurata, anche proprio di odio, verso la terra d'origine. Perché? Perché le due pedevoli, diciamo, che avevano costruito alla loro repressione, in particolare il re Borbone e le classi popolari che, pronuncamento, diciamo, queste richieste di libertà e potendo, diciamo, sempre di immaginare la questione della più principale, che bisogna ancora portare avanti le proprie vite, come abbastanza risalto che, insomma, collaborarono in questa repressione. Ora, la questione meridionale quindi nasce un po' come in questa maniera un po' classica, di questo nord che, diciamo, si arroga il diritto un po' di natale cos'è il progetto, cos'è la razzione e lo vuole inserciare a questo sud che diventa così abbonatamente arretrato, fungibile, barbaro e così via, ma diventata la cittura artigano, ma è che, appunto, il nord che lo guardava. Il meridionalismo, quello classico, questo, diciamo, polo tre, un po' le razzioni e il progetto, quello che ha accettato, nasce nella... ma introdotto il batalare, la quale nasce alla fine dell'ottocento euro, quanti, quindi di giornalismo, quello classico, quello solo, il classico, e poi, diciamo, anche a frattantà, diciamo, il batalare, il batalare, la quale nasce dalla fine dell'ottocento, quando erano questi conservatori, che, tra l'altro, erano anche abbastanza, diciamo, dimoriti da quella che era una classica. Pericolo che, appunto, le classi popolari potessero farsi un po' prendere queste idee rivoluzionari, quindi, in questo caso, non tanto come il... come dicendo, ovvero, questa questione è che non tutt'altro è capitale, ma proprio su come il Sud dovesse essere messo a valore in qualche modo, e quindi, accaccinato, accaccinato a subianza del Nord, perché il Nord era quello che chiamava l'amore, quindi il Nord era più chiaro, il Sud rimaneva agricolo. E, e quindi, diciamo, questo è un discorso, un male pronuncio, chiaramente, che era un'altra parola, ma anche con un'altra parola, poi, comunevole questo discorso. Però, nella parola, negli anni recenti, diciamo, non c'è un senso che, giustamente, non so se fosse mediale, pura o sparita, io non sono proprio completamente da fuori, nel senso che, chiaramente, a tutti dei suoi tempi di misura, di stare, ma soprattutto, sono parte di stare, proprio, la capacità di immaginare un futuro diverso del Sud che non sia, appunto, quello a cui è stato lezionato un po', un territorio che piacessero dare, da riserva di mano d'opera e che avesse un ruolo, diciamo, appunto, allo sviluppo del Nord. Questa, questa mancanza di immaginazione è praticamente crollata, anche, diciamo, quella animatica capitalistica, quando un po', dopo la, diciamo, dopo la, diciamo, delle contraposizioni, da partiti comunisti, dei comunisti, dei comunisti, e così via, e soprattutto dalla fine la classe del mezzogiorno che aveva comunque fatto un po' delle emeci di questo gruppo del Sud. Poi, gli intellettuali meridionali si ritirano a questa cosa, la sua ravanza, quella che poi viene definita dalla questione settentrionale, quindi questa leva, l'avanzamento della leva, che su una base, che su una nazista, in questo osso, in questa raniera, diciamo, che arrivano a andare alla questione meridionale, richiamando l'enonasi settentrionale. Allo stesso tempo, che cosa succede? Succede che i meditani, sono, diciamo, di fuggio da parte, diciamo, anche un po' della piccola preghesia, e delle persone che hanno studiato, che si sono anche un po' sintetico lavorati da questa situazione. Ah, non c'è da immaginare la loro piccola lavaglia. un meccanismo proprio con un specchio di flesso di uguale, che se ti vuoi decidere che noi siamo aziosi, che siamo accadrati, che non ci sono mai queste cose, che siamo qui intrinati, e allora mettiamo in luce tutte le volte i cubi, in una qualità non è quella che è portata perché la stazione le istituzione alla rinconvenza. Quindi io ho un problema in alto, però, sicuramente, come questa leggera, vedo le parti che non la faccio bene. Ho sempre, lo chiamato, mi mostro di che sono i famosi timati del tre corone, di questi famosi, che poi ne avevano i diritti dell'omiglia, che dalla leggerna, una leggerna, una leggerna, una leggerna, e che invece, questo è un grande ruolo di qualità. Il famoso, il famoso, il famoso, la posta interna della vicina, anche in Piemonte, dove l'ho trovato dentro la leggera di Mianzella, perché invece, era un rabbinetto, che avevano un piccolo Mianzella, e quindi, è tutto questo, che si sembrava che fosse una delle elezioni. E poi, davanti a una presentazione, quando appunto, scrivavo che la leggerna proposta, era un regime che prendeva gli amministrati politici, che ci mettevano in carcere, e, 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 come alle elezioni, e, 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 con lo scivoli delle televisione, avremmo portato per la prima parte d'Italia il carcere di stampo pentanano, quindi il proposito anottico, immaginando che appunto gli eventi tutti non dovessero essere più soltanto incacciati, ma anche controllati, quindi era una prima volta di vendarci, che però insomma è stato detto che io sono cronomizzato perché non vado queste cose, e quindi vi copaccio questa partita proprio per passare all'ultimo modificazione che abbiamo finito, in senso di fare proprio la questione relativa alla colonizzazione, perché diciamo nel lessico nazista, anche in base all'inizio di Piraccio, perché si è parlato tanto di quell'urbanismo interno, si è parlato appunto di questo, Graccio aveva una notizia molto complessa di quell'urbanismo interno, dopo come volete quella la ricanniamo, a me in struttura certamente per posta, per una base di questa grande identità meridionale che sarebbe stata rovinata dall'impatto con il Piemonte, invece per posta l'idea che il Piemonte avesse colonizzato, un vaso e saccheggiato questo prodigissimo reminio di Napoli, di Sicilie, e questa cosa è per molto problemata, perché è una malarazione in cui devo capire anche un po' una parte di compagni e compagni, insomma, è una cosa che io, dall'esperienza di tanti storici, posso anche capire perché effettivamente è un po' un po' anche normale andare a trovare, diciamo, il momento in cui attraverso l'intensità si potrebbe costruire, diciamo, il percorso di lessico, però è una storia che, diciamo, è molto ambigua per tanti motivi, la prima è che non si può solamente definire l'organismo che è stato fatto, è il semplice fatto che gli eventi storici dell'epoca non possano essere comparati come la ripartica, l'unica, 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 l'unica... ...e' vero che trovavamo una fine del tempo, ma non diciamo che voler... ...e' economizzato, ma chiaramente per l'inare, uno dei decimi più riusi, quella... ...e' quello che vuoi, poi... ...e' la stessa regalda, quella palaccia delle tutte le tante tra voi, che... ...e' la più difficile, c'è la più difficile, quindi prima è... ...e' quella che ho perduto. ...e' ehm... ...ma... ...e' questa cosa, chiaramente, a me ne sembra anche molto ingiusta nei confronti di chi... ...il colonialismo e l'evolumizzazione era sfumita davveramente... ...e' che questa cosa è... ...ha accaduta anche per colpa di... ...e di tanti meridionali e di tanti meridionalisti... ...e' che dopo l'unica, 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 l'unica... ...il'unica, l'unica, l'unica, la legnavano di poter dare la tegia ai portatini... ...e'... ...medianali, tra l'altro portatini che... ...ehm... ...in alcuni casi erano... ...in rimanero, per esempio, parli, di... ... la terra, che erano... ...ne diciamo proprio le... ...che' che... ...dietà approfondissime... ...quindi... un altro consiglio che voglio dire è che andiamo a mangiare il treo, che è lì che preoccupa l'area di Guadalini, perché chiaramente mi la possiamo togliere ai palloni qua e quindi sostanzialmente un'istoria assunto, come dire che la questione merinale sia impostata e poi su questi sottostitoli ai domani è un po' un'istoria assunto che lo riguarda per chi pensa sempre al sud del barico del nord, per chi invece pensa al sud debba immaginare una propria via indiverdente allo sviluppo e alla volentità e che invece lo generica totalmente la posizione delle medie amare e invece c'è la prossima del libro mio, ma adesso non ho parlato del pubblico quindi lascio la parola, lascio adesso un nuovo esperienza al sud che è più fermo di un'azzo, allora lascio a questo punto grazie 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 sì ecco, mi sembra, mi viene così spontaneo, e allora dicevi anche accogliere questo aspetto diciamo della rinforza della modernità, del po' meglio che si sviluppa in qualche modo che chiaramente è una delle nostre in gioco interne, delle nostre questioni funzionali anche qui come si è posta e quindi chiudiamo di sviluppo e di sviluppo, cioè c'è sempre questo tipo di editorica qua e dall'altro lato però chiaramente, diciamo, è abbastanza evidente il sviluppo questo ciclismo, è un po' di liberazione, eccetera eccetera quindi, partendo da questo, io aggredirei intanto insolvolare un po' questo fenomeno ma anche con il rivolgo della domenica nazionale che è stata una sperimentazione, possiamo dire, che Gianni e Mazzucano ha visto in qualche modo un tentativo di rilematizzare alcune delle chiame di l'operaismo che si era sviluppate principalmente, diciamo, sull'asse Nord-Ovest in una versione che in qualche modo integrasse questo tipo di ragionamento ma anche con alcuni elementi di lettura della realtà internazionale e ti chiedi, appunto, di sottolineare su questo, cioè di sottolineare di farci non dire questo, ma anche rispetto al tuo pezzo perché quello che mi pare particolarmente interessante di questo intreccio che tu mai fai individuare, non c'è l'elettro, non sempre le femministe sono autonome non sempre gli autonomi sono meridionalisti, cioè hanno a cuore la questione meridionale e non sempre le femministe, allo stesso tempo, si ponono questo tipo di questione quindi è molto interessante invece, appunto, in questa trama qua provare a leggere quello che tu, in qualche modo, la figura di un concorso a portare cioè il fatto che ti è evitato, ti è evitato, non si parla, non si parla e quindi ti chiederei, in qualche modo, di intervenire rispetto a questo intreccio a come si è dato e ai caratteri, cioè, come ho detto io, di attualità che ha avuto questa fase, che ha avuto questa fase e poi, forse, in questo momento, anche il ruolo della questione di domani è molto più interessante, perché non la faccio, che è veramente interessante ma è un po' per domani, se tutti è arrivato a fare, davvero, perché mi dico e per fare ragione, anche se tutti che iniziano, però, perché la cosa che ci si si mi permette di dire che ci vediamo che qui c'era fuori da anni, che è una cosa assoluta, no? Esatto, anche perché la situazione di regionale non è una situazione locale, innanzitutto, perché se c'è una situazione regionale in cui stava ad esempio in Torino, io dico immediatamente, perché solo facendo una mosseggiata in questi giorni, questa idea era una cosa così politica che mi faceva veramente impressione. Io vorrei iniziare a prenderla un po' l'antrogramma, anche purtroppo, dalla questione dello sviluppo, che è un po' molto avvocata, quindi non è anche una domanda, ci devo dire una cosa, uno dei modi in cui il Sud è stato rappresentato e non deve essere rappresentato, come sottosviluppato, come non ancora moderna, come crea a un natalismo, le due solitiche, tra le varie altre cose, è perché il Sud è rappresentato un luogo della criminalità. di essere milionari o di essere milioni. Stamattina, ancora, durante l'area della posizione ombrosa, quindi capirete che sono molto suggestionata in questo momento da questa giornata, tra gli interessati e gli interessati per lui, perché io credo che esista una genealogia molto milionaria, di un modo molto italiano, di trattare tutto quello che succede ai margini dello Stato. A partire dal Mediterraneo, in questo Paese, è in balza l'idea che tutto quello che non è all'interno delle istituzioni dello Stato è automaticamente pertinente a altri fenomeni come quello della criminalità organizzata. Cioè tutto quello che esiste anni fuori, diciamo, a Mediterraneo è tutta quella mafia, ma tutto il camorra, tutto è stata una vita per me insomma un tedesco. E questo è un dolore, questa è una maniera humiliante di raccontare questi dettori. Soprattutto non lo esava in maniera strumentale, ma una maniera humiliante di raccontare le forme di organizzazione autonoma, ma anche di auto-organizzazione, che nel Mediterraneo ci sono sempre sviluppate e si continuano a sviluppare per sofferire a una mancanza violenta dello Stato. E questo tipo di proprietà di organizzazione sono strutturalmente l'occolto di quello che abbiamo detto perché l'organizzata è una forma parassitaria del diritto e del diritto abita, ed è una forma parassitaria che intuovidisce alle sue persone che è già questo male. È una cosa che è un'attività figlio, sta bene, in quanto riguarda più di questo male. L'auto-organizzazione con tutto il diritto e il diritto abita sono sempre fatti da trovare a fare il contatto. Questa differenza è molto importante da fare oggi, perché se oggi non c'erano una situazione in cui, opponendoci a alcuni tipi di misure repressive del sistema autonoma che in questo paese possiamo definire come disumani, giusti e figli di una concessione identitativa dello Stato, e in cambio ci sentiamo a dire che per questo siamo decantissimi, che per questo siamo favorevoli a una buona vita proposta da quella che non vediamo. Questo è il figlio della strategia pericinale di rapportare le persone in questo paese. Questo inutile specificato non vi davano il suo po' il sistema del progetto strutturato che è venuta a rientrare. che è molto importante per essere da qui, perché un po' di esperienza, per esempio lo stereotipo della magra, del pantalino, di questo, però anche se stiamo riconosciando di attivola qui, perché un po' di cose non sono raccontate, ma discusse, secondo me, negoziando le tecnologie in cui ci spavano, e non in cui ci spavano. E mi sembra che sia importante partire da qui, anche per andare alle tecnologie su cui noi abbiamo parlato, di contribuire, perché tutto si è evitato. Questa è la grande domanda. Molte delle persone che hanno avuto in quanto a questa tecnologia a contrarre di me sono persone che hanno avuto trovato anche testimoni, che hanno avuto trovato testimoni di questo lavoro che hanno avuto trovato una persona e evidentemente per ragioni, non ho avuto più di età, io non ho questa categoria di persone. Quindi deve anche lavorare a questo tipo di ricostruzioni, ma costantemente con te, con le rettini cinetici, politici, ma altra cosa insieme. Perché a un certo punto io così delimito non sarei raccontando una storia che è la cosa che parte. Cioè qua è nel senso futuro, nel senso di generale uccide, nel senso di esperienza diretta, e anche nella tutta la storia. E poi sono altre serie di grande vore, di grande sofferenza, che impararono degli anni 70 sotto le sue stelle carceri, ad esempio. Questo è un grande tema, tutt'altro segnabile. Minica carcerazione. Non c'è, ma sapere che questa è una parte di differenza che nel senso di generale uccide è stata una delle cose che fa in me il nuovo funzionamento e il nuovo funzionamento del lavoro che abbiamo fatto. Cioè raccontare le sue intercacce per qualcuno è stato, anche un passaggio molto importante, della ragione di creatività. Io su questo a un certo punto mi sono anche sentita a me la più importante con le persone che hanno lavorato con psicologia, un maestro. Un miglior tempo, un miglior tempo forte. L'ho lavorato in piano a te, in il senso di scoperto, perché soprattutto nel senso di un contesto che non è giusto, che non è giusto, che aveva fatto tutto altro. L'ha visto animo di scrivere sui libri, che stava la rovincia a scrivere gli anni 70, come meglio non è giusto, se tirammo o non se tirammo lo so. Quando abbiamo andato alle stampe le pubbili, che tra i tempi sono fatto a bianchi, che si è un processo veramente sono andato dal fatto del mondo diverso da quel libro, e oggi noi stiamo in un mondo che è ancora diverso rispetto a quando i libri sono usciti o perlomeno in un paese è perso e qua ho lavorato anche per il titolo del programma che è proprio il titolo della nazione, ma anche perché poi in questo periodo è un'attività scientificamente, come si deve avere mai un po' anzionale per noi. Quindi nella lavorazione di questi libri ho fatto ancora un po' di due zona che ho affrontato anche con le gomane, con le donne che avevano usciti principalmente dopo i testi di cristiani che avevano vissuto negli anni 70 e le loro esperienze sono state anche sinceramente molto difficili da ascoltare a un certo punto perché comunque c'è questo aspetto, ma per me la ricerca che non è facile, no? Diciamo che alla fine io con l'alentamento ho scelto di provare a fare un'altra cosa proprio per occupare un posto che mi sembrava un po' percorso per me cioè provare a ragionare su quali sono i nodi teorici, politici e anche delle relazioni all'interno delle nostre comunità che probabilmente non abbiano ancora tutto sciolto e che probabilmente possono ancora ricevere le cose in oggi. non anche perché il discorso è quello banale, che il potere da Sera si libera sempre il potere di sorgere il più ambiente sempre in gli stessi modi, non è questo però io credo anche che in questo specifico momento storico, diciamo così con questa anche nuova configurazione politica che stiamo vedendo, la nuova rete degli anni 70 è completamente sul che è una battaglia, cioè c'è una battaglia che la sinistra ha perso non l'avamo usato in dita, non l'ha persa perché ora la dita va in un atto che è fatto da noi, in questo momento, un governo che si può permettere di insediarsi ringraziando i luoghi morti è un governo che esplicitamente conosce la genealogia non tanto nel fascismo storico come molti dicono, ma nel mio fascismo degli anni 70 e questo è perché dall'altro lato io penso che in te ci sono un modo di memoria e soprattutto di racconto lavoroso e ciò così io spero che in minimissima parte anche un po' il lavoro che abbiamo fatto con la pubblicazione di questi libri quindi mi servono non solo a formare ma a provare a metterci un piatto perché venire a letto e venire a discusso da tante in tante oggi anche per quella del contatto che noi tutti ci portiamo dietro, no? che evidentemente sta venendo scontato in questo momento in cui qualunque cosa si trasforma in una cosa di terrorismo, questa era una varia che viene da anni 70 e per cui ci continuiamo a stare addosso perché sono amici che non sappiamo più raccontare come anni gioia, sappiamo raccontare come anni in attività da vanguardia, cioè non so come dire l'Italia non è giù e si chiama guardia continuare da un fatto di tempo e in quel momento non è stato fatto e il femminismo italiano in quegli anni salva tra l'unale a vanguardia tutto era un fatto di compagni e anche compagni in giro per il mondo continuano a guardare. Questa è una cosa sicuramente invece abbiamo una cesura a volte, no? è anche proprio una volta che è di... una cesura che è scavata soprattutto questo in queste due disposizioni portate con colpa, un fatto stretto, una disperazione. In questo senso poi a me è interessato, certo non mi è interessato, mi è anche stato fatta da un papà bollente incredibile, no? Perché quando c'è stato tutto il contatto mi aveva detto che aveva fatto una cosa sui movimenti femminili, né l'autonomia, né l'idea di viola e nella destra, da dove fanno? Se te... io provo a partire vuoto, no? Dall'idea di comunque questi tre poli l'autonomia, l'idea di viola e l'immunismo sono tre poli da collaborazione impossibile in cui una di queste due cose dialoga con l'altra un per mancanze che perde l'autonomia, no? non so niente, un per mancanze che crescentezze per vari motivi. Prima di tutto perché l'autonomia per l'interiore è stata una volta più complesso, è anche molto neo-ilistabile ma anche a Roma, per esempio. C'è stato qualcosa di strutturato delle storie di storie magari a Napoli, però questo ha anche un grande problema come Napoli, questo è un primo parte di Napoli, il regione della provincia Napoli è spesso dalla famiglia di tutt'ina del sud, cioè su un sciacoli, con l'altra famiglia, su un est e per tutto però quali le differenze sono fatti stali e per esempio con i primi ministri in Italia, nel sud Italia, negli anni 70, sono stati tanto movimenti di provincia questa è una ragionata molto tantissima rispetto anche a come noi ragioniamo nel centro, in cui magari alla proprietà di l'obbiettivo, come quella per il salario del lavoro domestico, arrivava in luoghi dove normalmente altre forme di organizzazione politica, dove proprio più difficilmente arrivavano, perché trovava la vita delle persone e quello non è quello che è fatto, perché il legislativo fondamentalmente quindi capire qual è il confine tra autonomia e mano-economia in Perigone non era facile questo è stato uno dei più nuovati, non è più nuovato, capire che su questo punto spesso noi non abbiamo avuto delle mancanze nella capacità di leggere alcune delle volte non dei programmi che erano un po' un po' quella di alcuni schemi e lì il primo mondo sarà il problema, anche come spesso le nostre categorie politiche soffrono dello stesso sviluppismo lineare quando guardiamo al sud e al sud cosa è politico, cosa non è politico, comunque non è un modo generale di essere più avanzato ovviamente rispetto a un altro. Come dall'altro lato, anche all'interno del femminismo veniva nel sud di paga, non c'era una plana concezione, un po' l'azienda della differenza americana perché non ho detto che le compagnie che facevano l'obbiettivo in San Napoli o un'altra parte del sud si connessero il problema della differenza con le compagnie del nord perché è una differenza che invece io penso che si è ancora giocato oggi cioè non è una differenza essenziale, non è una differenza identitaria, non è una differenza determinata tipo, noi avevamo avuto questo femminismo terrone, però non avevamo ancora capito in che cosa il prezzo e ci si fa fa ma non ho fatto una cosa magari come oltre in casa di ricerca, non ho fatto questa risposta ma mi trovo, non ho fatto il francese non ho fatto la risposta e torno alle cose serie così mai fermo e questo appunto mi sembrava ancora più attenzionato anche per correvare il problema per me anche di per tornare ad essere il cronialismo Poi ho parlato della storia coscolarale, c'è anche un fenomenismo, un po' altrimenti non sono altre donne, non sono altre donne, non dico che c'è, però magari immagina un prossimo problema, non ci lo usiamo a costruire il fondo, non c'è un'idea anche di noi, è tutto molto specifica, dico che si è arrivato a un'arcale, si è arrivato a un nuovo emancipazione, che infatti è anche vero, però poi non è che insomma negli altri anni fa, però anche per un grado, invece, si avevano un grado, ma comunque più buona salute di quanto potrebbe essere, mettiamola così. E l'ultima cosa, spesso di quanto c'è di condividere qui, è che quando abbiamo l'evoluzione, purtroppo alcune comunità della economia, sono state spesso comunità che hanno quei difficoltà, internazioni con i femminili, per me, sono una cultura, è stata una cultura profonda, è stata anche una, è una storia anche di grandi violenze, no? È una storia anche di grandi violenze che tanti compagni hanno subito all'interno delle comunità, è anche una figura che ho letto, dove comunque essere compagni di vita subito dalle violenze all'interno delle proprie famiglie, e questo direbbe la diversità dello Stato e della politica, e questo è molto sempre più troppo più, anche nei diversi spazi che queste persone hanno costruito con me, con i propri. Questo secondo me è importante non perché dobbiamo riferirare il passato, ma che ci deve subire tra le nostre, ci deve subire e fanno capire che ci sono le riferite aversi, no? E che forse vanno, cioè non si riduciano, però ci hanno distrutto ai nostri qualcosa. A me è sorriso tanto, ma è un tipo con questo, e nel processo che ho portato all'inizio, di parlare, di essere in contatto con tante compagnie, io dico sempre, io dovevo ringraziare le persone che hanno raccontato la loro storia, a volte può che si scrive, ma io devo ringraziare quelle domande, perché non sono sentite di raccontarne la loro scorta, perché il silenzio in alto al mezzo, ad esempio di 40 anni, che era un silenzio di 4 anni ancora, ancora sentato, a me ha fatto tanto. E questo mi sembra, no? Anche il lato di realizzare che poi la problematica è una riuscita politica, che ho riuscito a far metterla, anche se non è una parte di un processo di realizzare che poi possiamo continuare con tutti i tempi. Grazie. Grazie, Anna. Adesso, insomma, così, anche io per fare una battuta, però è molto interessante questa è un po' di un po' di un po' di un inizio, rispetto al fatto che, in qualche modo, una parte del modello elettoristico del Stato Unitario si è collegato, soprattutto intorno a, diciamo, come non è successo con tutta la, da un milione. Per esempio, questa, eh, per associazione di diritto, eh, minds ha chiesto, eh, di raggiungere l'attra quante di ehm scoria e la matica e la campagna per i due ditepie, che, e, e che è, è, che è, di famiglie, però sono 5 anni, quindi di famiglie per la bande e sono parte della serie di psicologici istituiti tra fino a 100% e fino a 100% proprio per affrontare altri fissi nuovi del vantaggio, quindi in qualche modo c'è anche un gasto di sub, ma anche la situazione di tutta la stessa, la situazione di tutta è un po' subita in questo modo che lo fa. Quindi dice comunque su come tornano a queste contraddizioni, su come sono le situazioni e le modalità dello Stato. Detto questo, vorrei farvi una domanda stessa e quella che è particolare, così per la volta rimbattendo. Contenarmi, vorrei parlare su una questione che mi pare interessante, trasparente un libro anche qui, per esempio, un po' granci, ma anche di una critica, diciamo, gli operai del nord e del sud, una volta. E rispetto a questo vorrei porti la questione di oggi, nel senso che, per esempio, un racconto viene fatto del sud rurale, eccetera, eccetera, ma ho fatto da, possiamo dire, gli erbici che abbiamo assistito in questa seconda secola, la fine della città, la prima volta. E quindi, poi, cos'è fatta questa costruzionalità biologica? Che vale per il sud, ma è in generale, comunque, gli spazi non ne sono voluti a quattro anni, chiamavano così. E' una questione, perché qui il rapporto che viene fatto non sia le studi, sia per esempio, che ne sono voluti a quattro anni. Però in realtà, se non lo vedrete, qua c'è l'ambiente di spazi di tarpezzolari, qua c'è il garantimento, qua c'è il modale di sinistro traduzione, eccetera, eccetera, eccetera. E invece, attenzione di richiedere, rispetto a questa questione dell'autonomia, in qualche modo, la specificità dell'autonomia immunitaria, e se vogliamo anche queste l'autonomie senza ruotare l'anguscola, no? Senza ruotare l'anguscola, diciamo, l'energia, come il movimento più di vista, l'energia di una questione religionale, no? Oggi mi sembra comunque, diciamo, un elemento sociale, questo elemento di un'autonomia semplicemente financiale, nella della narrazione che fanno i compagni, le compagnie, anche scritto assurdo, ma non solo. Ma in realtà, il movimento sociale, ci sia il fenomeno che ci parlano, invece, di ria, ecco. E quindi, il movimento è un po' come vedi questo aspetto, e appunto, in questo senso, anche dove sta la qualità, per il quattro cento c'è quello che dicevo. La domanda che farei a tutti due, ecco, un po', invece, è un po' provocatoria, però secondo me, è importante, rispetto a una lontura che si fa spesso, in qualche modo, un'altra città è proprio in alleanza di basso. Quindi, il rischio, spesso, di, come dire, mi piace di provare a, a trovare le informe reali, dobbiamo congelitare l'aria tra le questioni che ci smingono, dobbiamo contestare il capitalismo, di trovare le opportunità, no? In qualche modo, per stare insieme, perché siamo più evidentemente, e tutte, in questo senso. Quindi, tu su questo, secondo me, una radicata, una radicata, una radicata, una radicata, una rossa, una rossa, una rossa ostura, no? Della ostura, come te di chi, una storia, questa questione di rischio di solo a te, non so se la definizione o la definizione di cui vi trovate, ehm, c'è un po' di più grande. Perché, ehm, cosa ne pensate? Allora, mi chiedete sul posturale? Allora, io penso che uno dei più grandi errori di interpretazione del Sud e della questione medianale, in generale, sia stato quello che è stato dedicato da chiunque, che era la mia posizione della storia in Italia, dai periodi giornalisti, dai sviluppisti, dai comunisti, e da chi, veramente da chi ha un po' di più grande. Siamo posto questa domanda, diciamo, come risolvere il problema del momento di ritorno, quindi, diventando una questione mediale. Io dico, io ho fatto una questione, per esempio, che non la vedo, anche questa cosa degli istituti, pari a me, non c'erano di spiegare il perché, però, hanno avuto questo tutto mezzo di ridurre il meridione a un'unica dimensione, che spesso concedeva banalmente, ovviamente, un po' della retadenza. Questa retadenza, per quanto l'ho detto un po' accennato, è coincidita, appunto, l'unica dimensione possibile pensita in quella, nella sua dimensione rurale. E questa cosa qui, insomma, un po' a descrizere il fatto che effettivamente il medio è composto di tante realtà culturali, sociali, linguistiche, produttive, e così via. Carla, già ciò, appunto, è difficile per lei, insomma, da Napoli, io sono caro di costitettante, che mi ripeto, spesso che sono letto, perché abbiamo un po' un po' di costituzione, anche loro, voglio dire che abbiamo un po' di costituzione abbastanza chiusa, perché si tende alla sociale, per esempio, con Napoli, abbiamo una realtà urbana, ma ci sono zone strutture, quelle, montose, come in realtà, ma non le tutte le persone fantastiche, le persone di area interna, e hanno un problema che hanno, come si sente, ci sono un po' di costituzione, di un po' di costituzione, di un po' di costituzione, di un po' di costituzione. E' un po' di costituzione, perché la questione è stata effettivamente una specificità, una specificità, e otterrassano il milione di tante ragioni, anche con un punto di vista in Italia, ovvero, anche i muri delle isole, di sicurezza, e adesso Sicilia è un mezzogiorno, è un monozza particolare, anche nei dati statistici, eccetera, ma diciamo che alla fine, poi, la Sicilia è stata l'isola un po' di costituzione per eccellenza, per lì, nel senso abbastanza facilità, perché in realtà è una città che ho mai stata, e quella efficienza, perché dovevo dare molto, io non so dire come, vorrei andare effettivamente a finire, ma quella roba lì era, appunto, l'autostodio per Napoli, per quello di cui accenavamo. Con questo piccolo capello per dire, com'è immaginare la post-moralità in un territorio che però già nella storia dell'Italia ha cominciato a avere varie, evoluzioni. Chiaramente, il Sud è, a livello immaginario, soprattutto, per cui il immaginario è passato nel dopo la guerra, ma anche se lo diciamo banalmente, il Cristo che si chiamava l'Evoli, eccetera, è molto associato a quella roba l'andalia, con lo sguardo, con il cuore, un'intera, un'intera, un'intera passiva, eccetera. Però la grande contraddizione di quella nuovanza è che, praticamente, la città scopertadina è cominciata a sparire, e quindi, in questa post-moralità, se vogliamo prendere quello con un punto di riferimento, invece è che a me sono tante cose diverse in queste tecnologie di cui abbiamo dato, uno, i contativi, nel proprio vero, la centralizzano e fanno le proprie grade. Cioè, loro, praticamente, vedendo l'iniziativa, e finalmente, un manacomo con Italia, che, diciamo, con mille difficoltà, finito, finché venga fatta una riforma agraria, che, finalmente, è una cerchiazza di ottenere dal fondo, nel fondo della stessa struttura economica. della paranzia d'aria, per cui, diciamo, nel produrale, su questo, per tutta una nuova propronica, che aveva Napoli, che aveva un grande sforzo, che faceva, magari, un po' anche, diciamo, attraverso lo scambio delle risorse coltivate, che si trova pane, l'alcol, diciamo, per tanto, una luce di fila, penso, quelle persone, che prendono, un attimo, 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 all'ospitalità, e così via. E, le molte portatine hanno messo, subito, diciamo, in questo paradigma, già negli anni 50. Negli anni 70, come c'è stata, nella realtà, in Europa, di Napoli in Italia, spaventemente, del Sud, in libro, la Comunia, facevo l'ultima notazione, ovviamente, . . vediamo, sentite, anche, che numero, si è discorrata, e invece, se non ricordavo, per fare il video dopo, proprio, proprio, ma, ma, intanto, Sicuramente la differenza degli anni 70 è nato il nostro appunto che è la prostitutalità già è la prossima parte degli anni 70, in un territorio che però l'industrializzazione è l'alba italiana, per un fatto, a Saprana. Mi hanno detto che il tema è ambientato nel territorio meditinale. Quindi, dicostiamo, diciamo, una fabbrica dell'Ucidataro, ci sono tutti questi, come dire, questi urbubili secolari, facciamo per la saprita, non servono, posso mai partire, il mare è un po' più più, non c'è niente da fare per fare, e in più questa è una nazione che è la condivisa, doveva parlare al Partito Comunista. Il Partito Comunista diceva, noi a questi capolini, questi comitativi figurati, che non sono capigliati di capire, diciamo, come potrebbe essere parte sia, diciamo, la coscienza di l'Als e poi per il Partito Comunista diventa la coscienza di l'Als, perché ora è stata una società propietta per operare, di sicuramente, e quindi facciamolo diventare un territorio operai e continuiamo con il mezzo di solito. Questa guardazione, qua, adesso si introduce a Napoli, dove ha avuto alle mille esperienze di organizzazione, di cui ho accennato, ma sono stati solo ad esempio anche con la barriera, di cui ho parlato del piccolo, diciamo, monumento di organizzazione a Napoli, l'economia, l'economia che si muoveva, diciamo, alla strada, al piccolo, al quartiere, che erano una delle cose che, diciamo, consentivano a queste persone di non fare, sostanzialmente criminalizzate sulla parte dei tipi teorici, quindi, se magari hanno un'inunità di buon duramente, parliamo della criminalità quando va a prendere, o che quando va a recere, o la... diciamo, può muovere una bella piscina, un altro operario, e così via. E quindi, che cosa facciamo? Le condizioni, in questo senso, questa è la base di una cosa che è proprio tanto per il fatto della manifestazione che hanno fatto ancora un po' che si può essere andiamolato. E' proprio quello che ha detto, come in realtà lo stereotipo sui superventi, sia uno stereotipo che si può applicare le classi dominanti. Quindi, c'è un esempio che è quello delle liste di d'Octa, che in un certo punto i diplomati organizzati facevano per provare a strappare il pozzo di lavorosamento dell'economia che si può era tattivamente utilizzato dalla pressione militare dell'automunzio e cristiano. Quindi, diciamo che, a questa volta che anni 70 arrivavano l'automunzio, si dovrebbe rispondere proprio con una molto diversa domanda. Oggi chi dovrebbe, diciamo, provare a immaginare qualcosa di diverso dal sud, sicuramente dovrebbe provarlo a fare una variabile di classi più discorsi. variabile di classi che, oltre a quelle di, chiaramente di genere, grazie a quella frattura teografica, diciamo che, più giustamente, diciamo che il comunale del primo negozio, ne parla di vera, spesso che è identificato, ci dovrebbe far immaginare, quindi, che, dal lato dei primitari, non ci sono problemi, non ci sono problemi, soltanto, mediterranei, perché, da questo problema di riochi, diciamo, nella città così, vuol dire campagne, vuol dire, da poco da lato, vuol dire braccianti, che non sono, diciamo, d'origine mediterranea, ma ormai, diciamo, sono italiane nelle stesse condizioni, anche, diciamo, colponici. Un'altra cosa che ho fatto dire è che, in realtà, diciamo, fai un po' 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 di questa ma, in questo momento, non è dire quanto, e questo partece anche per i miei compagni, non lo dico appostamente, che vuol dire quanto, diciamo, come dire, qu�� e qualcheità che in qualche modo ci stavano, diciamo, ma comunque le fai consente di cambiare era parte delle misce delle legalità. E allora, io invece penso che, diciamo, non è verificamente grande, però la realtà è che negativo che, lato e lato, lato e lato in legalità, cioè, non è la questione della scensura, anche criminali, è una cosa che efface soprattutto sulla vita delle nazionali e civili, dovevano uscire un po' a fare le prime distinzioni e dovremmo accettarci anche in strada di raccomandare a primi che stanno con queste ideali ma ci hanno delle condizioni più subordinate. Mettere insieme i primi progetti è molto difficile tra uno e l'altro, dal centro dei campani, che stanno in città, che stanno o le lezioni più liberali oppure in quella, diciamo, che si chiama campiero, che si fanno a casa e queste cose che fanno l'idea di cura e così via. Nelle aree interne quotidiane ci sono ancora delle problemi. Immaginarsi tutte queste cose vuol dire che vuol dire riportarla in un'idea di genetà e noi abbiamo praticamente perso perché? Perché stanno andando a rincorrere un mito omogeneo che sia o quello del gruppo, l'attività del gruppo, o quello del soggetto evoluzionale dell'ultimo. Io ho sfruttato questo tono della natura che ci ha fatto agli entri dei napoletani, che ultimamente fa un momento di moda. Io ricordavo che noi spezziamo queste dimensioni di classe, di genere, di struttura geografica, ma ne prendiamo soltanto una sola complessione. e quindi noi sappiamo tanto l'essere religionale, o l'essere donne, o l'essere dire, o l'essere sfruttate, e io lo dico conoscivati, ma non si dico la cosa. No, è l'educazione finale di per la natura di pochi, di generale, che non sono davveroيفa un'idea di risoluzionale. Puoi rispondere. No, allora io, vabbè, rispondere su questo. In realtà volevo ancora dire che l'allevato che mi sono magari nel servizio, su quello che si scopre, a passare un po' il discorso dell'attività, il senso dell'autodistratazione. Cioè, questo tema, io l'ho disposto all'inizio, in termini di articolazione fatta dall'esterno, però poi, anche in Italia, è un grande problema di autostereo, che funziona tanto, anche detto appunto, auto-organizzato. Cioè, faccio un elemento molto pratico, c'è la divisione tra l'avvolto di autorizzazione e l'attività di autorizzazione, è una cosa che viviamo nel momento sulle nostre vite, perché se fai l'Igitto, la scuola, siamo qui con le ragazzine, le quartiere popolari, a Napoli, sei vuoto perché lo fai con una camota. La prima volta è l'approccio anch'io, non so, io c'ho due termini, no? Però sei anche l'eroe che fa quella cosa lì, che fa il razzetto a sotterire veramente con un terreno del mare al contatto dello Stato, se voli quegli stessi ragazzini, di quegli stessi quartieri popolari, vengono uccisi da un poliziotto, mentre fanno una cartina con una pistola a giocattolo in mano, tu ti senti, improvvisamente diventi quello cattivo, dipende la prima e parolizzata. Io ci tenevo a dire questa cosa, perché se vi conosciamo, che siamo a piacere anche a Carmine, piacere no, però troppo che in questi giorni a Napoli andremo, ti pretendo, a cancellare, l'unale dei seconderi spagnoli, che dedicava un russo, un russo ragazzo, che era un pa, che è stato ucciso, a 15 anni, in Napoli, che è stato ucciso, in borghese, che faceva una cartina con una pistola a scattolo. Qui gli stessi ragazzi, gli stessi quartieri, sono quelli che, nel giustato progresso, devono essere alentati, salvati, per cui c'è del porto italiano, per cui non vengono, a Napoli, c'è del regalo, ma, se non c'è dello stato, si smorgono bene, ci sono rettamente gli stessi che diventano solo un criminale o meno, che è meglio di avere arrivato a acquitare ragazzi peggiori e lo abbiamo fatto subito, subito dopo. E questo viene fatto, così, da una presentazione che viene dall'esterno, ma anche da una presentazione che viene, per esempio, dai giornali naturali, dalla sinistra, una coletana, no? C'è questa riapita del Polosa, nel Sud, che tu sei nell'analisi, ma non fai come loro, no? che gli stessi affatti, diciamo, che ha un po' del tetto rivistato, no? Sempre, è una buona capola imperfezionale, diciamo, che si muovelle per te mismo. Questo, per me, è un tema, ma un problema, poi, anche sul mondo, poi, c'è, conoscere il San Napoli nel momento di me, ci sono ancora 3 anni, praticamente, mi sono formata tra l'altro. però, oggi, va molto di moda la questione dell'alachimia in Bel, no? In San Napoli, poi, il controllo, in mano, anche così, che ho problemizzato, che è veramente una cosa molto vera, e poi c'è anche, per fortuna, cristalizzata, anche le piccole battaglie, che sono state vinte, anche, diciamo così, dalle soluzioni, dopodiché, purtroppo, ma poi, è anche una valorizzazione a sua volta, cioè, poi, la gente, non ancora, confisca a Napoli, perché vogliono vedere una serie di cose, che vogliono vedere illegalità, no? Vogliono vedere spazi, autobunità, non occupati, che sono in realtà che, da un lato, è una cosa, che poi, non c'è anche gli spazi, ma dall'altro lato, che posto, non importa, no? Perché non si vede, e poi, nella direzione dell'altra, avranno tante categorie di identibilità, uno sguardo, o altro, quindi, questa è una domanda, che rispondo, ma la lascio qui, altro, a testa, diciamo così, aggiungono tutta la cosa, a loro, che porta, poi, alla confusione della nuova italiana, e, come dicevo, io, non c'era una domanda, per una società del nord, l'ho fatta colita, per tre anni, anche quando pensavo, che, inoltre, secondo me, dobbiamo ancora, pensare, su quanto, i movimenti, nazionali, in Italia, nel nord, su crescere al sud, e penso che, le cose succederanno, le cose succederanno, sempre, poi, all'internoz, dai, i collettivi, quante delle persone, sono venute, e questo è così, cioè, l'ha recuperato, ormai già espriti, seguendo, Alfonso Nadella, che ha scritto, la nostra volta, il contributo, che ha dato, i dettagli autonomi, su, la tua storia, ma, che ha un pochino, qui, questo è ancora una cosa, molto precedente, il periodismo, per esempio, della storia, del nord, poco primalizzata, e poi, anche, dove finisce il periodo, è una domanda, che ho fatto sempre, se guardiamo, i miei pubblici, c'è una grandissima domanda, guardiamo, che direttamente, qual è la quale, il mondo del lavoro, e questo, secondo me, però, ha tenuto così su me, nel bene, nel mano, no? che fa, io voglio dire, ovviamente, ho un po' di definizioni, queste linee, qui, sono un po', la traccia, che io provo a seguire, e li uso per arrivare, ad un solo punto, che quello delle teme, anzi, perlomeno, lo sintetizzo così, di questo, potremmo parlare, però, e diciamo, che a me, mi interessa, sempre molto partire, diciamo, provato, un pochino, spero che su questo, si vada avanti, anche dal, ragionare, certo, che mi sa davvero, l'interstazionalità, che penso, c'è una cosa, molto usata oggi, ma io credo, che, l'interstazionalità, funzioni, quando è, rinunziata, mentre vi toglie, a partire, dalle altre reali. Questo, che vuol dire, tutti noi, che, per esempio, erano comunque, un'unità, perciò, sono un'unità, perciò, non abbiamo, nemmeno, questa, soluzione, il medico, dicevo, tutti noi ci siamo, per formati, noi, perciò, davvero, tanto formati, come, 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 an odcinkapore, non erano mentre un'unità, perciò. e ci ricordasures quando si sta, 看, come ci si chiama, ma. Prendi la pola, una ministra, che comincia, perminta. Non ci sono mani né, delle emozioni sono sempre in ancora una sua. E io, come la. o bueno, alcuni hanno scritto quello che ho letto da tutta linea, Leon. e quindi sono sentate tutti noi con le categorie analisi, attraverso l'auto, tipo questo, l'incancita, l'organizzazione interno, il merito è una totale che si deve poter dire, dovutti che poi l'organizzazione è anche un'altra cosa per l'annunità, no? L'annunzione e anche i problemi intercoloniali in altri momenti. Se stiamo a fare per la vaffa, di modo, perché parliamo di vaffa passando tramite il tutto giorno, ma passando tramite il proprio tempo, dovutti che l'avanza è anche una cosa che si definisce in modi diversi e il criterio che ha fatto l'avanzamento si definisce in modi diversi. Io credo che una cosa che è molto importante per dare l'annunzione a finire è imparare ogni intercambio del tutto giorno, adicolo con le professioni dei criteri. Perché noi abbiamo il giocoso, e la parola di rinunzione è una cosa più rilassata. Non lo è. Ci sono persone militari che sono opere, e ci sono persone militari che sono tante, e noi non siamo un po' a tenere a pensare in questo. Però oggi il discorso di una razza in Italia è molto grandissimo, perché dopo il risparcamento delle regioni, si è giocata, le gemomini, i saldini e poi tutto il resto. Quello che dovevamo stare molto contenti, ma non per loro a fare niente di dovere, ma tra una cosa in Italia, se non è giù in teatro, ma anche sull'agentione, in questo momento, domanda ma è la stessa storia, ma ha la stessa storia, ma ha una stessa storia, che è stata una funzione. E quello è, cioè, vero, il discorso di una regione, non serve ad altri altri, una nostra identità. Quindi diciamo, siamo economici, siamo guani a chi, non so, chi muore, come al cuore, all'attico, nella vostra parola, come al cuore, ma è dire che questo è un altro pezzo che rimonta una cosa che vivi la violenza, che è il nazionalismo, perché come si deve essere ridotta, come si deve avere un fascino straordinario su tutte e tutte, c'è tante e tante, quindi in questo senso poi vanno queste succedendo che è importante, come abbiamo visto l'allianza in questo modo, perché in questa sezionalità appunto si parla diversi, in Italia delle attività di sezionalità serve anche quella dell'allianza del civile interno, secondo te, però stai in mezzo ad altri, dicendo che è vero che noi siamo appunto, non per dimenticarci un passato biologico, di cui c'è davanti su un'articola, voglio dire, è vero che la base minima che non ci mettiamo in un'articola, in un'articola, in un'articola delle persone, come cop extreme, ma di un'articola che non è la situazione non è la situazione disponibile, ma di un'articola delle persone, o di un'articola delle persone, di un'articola delle persone, quindi non ho visto che ne sa bene. Grazie a tutti. 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 No, no. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Torino. e a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. e a tutti. e a tutti.